La sosta sul piano Arraso sarà gratuita, questa è stata una nostra volontà per le festività natalizie. Tra l'altro questo periodo ci consentirà anche di rimodulare il sistema dei parcheggi e mettere a disposizione ovviamente anche questo spazio che comunque come modalità di sosta rimarrà identico a quello che abbiamo visto finora dall'8 gennaio, ma rimodulare il sistema dei parcheggi complessivo e anche andare a risolvere alcune questioni che si sono determinate nel corso delle scorse settimane. I piani invece sotterranei sono affidati alla Terram Ambiente, quindi con l'ordinanza di ieri con cui ho ripreso possesso di Piazza Dante, di tutto il parcheggio, ho indicato la Team, quindi come una gestione comunale in diretta attraverso la Cittain House, per i piani sotterranei e gli utili che deriveranno da questa fase, che sarà una fase legata anche al giudizio che è ancora in corso e che si dovrà concludere, saranno ripartiti tra la Team e il Comune reinvestiti sulla politica dei parcheggi e quindi per migliorare i servizi a favore dei residenti, dei commercianti, dei cittadini tutti, dei lavoratori della città. Si chiude una vicenda che la nostra città ha pagato, ha pagato tanto, ha pagato troppo per l'incapacità della precedente amministrazione di governare il processo, ha abbandonato completamente questa piazza al privato, noi abbiamo ripreso in mano la situazione, in questi anni, nonostante il Covid, abbiamo messo in atto un percorso che oggi ci consente di restituire questo spazio alla città. In questa fase, nelle more ovviamente del completamento del processo di ricostruzione e di rigenerazione urbana della città, che incideranno sul sistema dei parcheggi, ovviamente questo spazio, il piano a raso, sarà destinato e riservato alla sosta, perché questa è l'esigenza di questo tempo, a differenza del 99. Una volta chiusa questa fase, riapriremo questa valutazione sulla riqualificazione della piazza, che al momento è congelata, in un'ottica di una città che sarà completamente diversa a quella che abbiamo già scritto e che da qui al 2026 sarà profondamente trasformata. Noi siamo in trattativa sindacale permanente già da qualche giorno, ho incontrato i lavoratori poco fa, parliamo però dei lavoratori operativi, cioè coloro che hanno gestito concretamente e materialmente il servizio sulla piazza e stiamo adottando tutte le tutele che consentano appunto di dare continuità, ovviamente compatibilmente con la tipologia di servizio nuovo. Parliamo ovviamente di lavoratori che saranno al servizio della gestione dei piani sotterranei e quindi con la termoambiente stiamo gestendo la fase di transizione. Quindi immaginare una piazza tante, ovviamente nella superficie senza auto, magari in un futuro sarà possibile? Nel momento in cui la città avrà un sistema di parcheggi adeguato e sarà profondamente completato il processo di ricostruzione e rigenerazione, assolutamente sì, perché è un obiettivo che non dobbiamo abbandonare, ma quella scelta del 99 al momento va congelata perché le esigenze storiche, economiche, urbanistiche della città sono profondamente diverse.